Allora Alessio, stavolta ci siamo andati solo vicini. Sì, penso che Firenze abbia meritato la vittoria perché soprattutto nei primi due quarti ha dimostrato di volerla vincere di più. Quando tu giochi in casa e prepari determinate cose, l'attaccante avversario di riferimento fa 20 punti, vuol dire che non c'è la cattiveria agonistica, la prontezza, la ferocia agonistica, è sufficiente. Il Poltroneri si conosce, è in una condizione fisica e mentale migliore di quella di dieci anni fa, perché quello che ha fatto oggi l'ha fatto la partita scorsa, la terza giornata, la seconda giornata, la prima giornata. E voglio dire, allora si deve applicare e dedicarci in maniera diversa. È inutile poi piangere sul latte versato, come si dice. E niente, dobbiamo essere, secondo me, un po' meno bellini, chiacchierare meno, essere un pochino più cattivi, aggressivi, un pochino più pronti, perché queste partite qua devono essere, secondo me, approcciate in maniera diversa. Loro sono stati bravi in difesa, sapevamo che cambiano su tutto, sono grandi. Quello che è andato male nei primi due quarti rispetto alle altre partite, abbiamo perso dieci palloni, nelle altre partite non le abbiamo perso in 40 minuti. Poi ovviamente i ragazzi sono stati bravi a rimanere lì, a provare a giocarla. E poi è chiaro che alla fine, se mettevamo la testa avanti, siamo riusciti un po' a incartarli con la zona. Però abbiamo avuto l'occasione, un paio di volte, secondo me, di mettere la testa avanti. Non l'abbiamo messa. E allora hanno vinto, ma hanno vinto meritatamente, secondo me. Niente, quindi complimenti a Firenze. Forse è una sconfitta che non fa tanto male, perché io penso che, per due motivi. Uno perché, siccome la gente conosce poco la palla canestro, non vorrei che pensassi che noi fossimo una squadra forte. E allora che, dopo quattro partite, è normale vincere la quinta, la sesta, la settima. No. Noi siamo una squadra che può essere una squadra, voglio dire, che ottiene dei risultati, consegue degli obiettivi, se c'è un certo tipo di applicazione. In caso contrario, voglio dire, siamo una squadra media, dal mio punto di vista. E quindi, e secondo, anche i giocatori, secondo me, e tutti, dobbiamo capire che, questa parità persa ci deve accenere, ci deve, è un campanello che ci dice se vogliamo vincere la prossima con Palermo, che tra l'altro è una buona squadra, voglio dire, dobbiamo fare determinate cose, dobbiamo sporcarci di più le mani in difesa, dobbiamo pensare di meno alla filosofia e dobbiamo pensare un pochino di più a responsabilità individuale, a non farci battere, a collaborare, a essere pronti e via. Poi è anche vero che abbiamo sbagliato tanti canestri piedi per terra, perché da tre punti non abbiamo mai fatto canestri, 9 su 32. E voglio dire, di là c'è uno che alza la mano, fa canesto sempre. Da un certo punto in poi ho chiesto di cambiare tutti i blocchi con lui, forse era una cosa che potevamo fare dall'inizio, però pazienza, voglio dire. È chiaro che a un certo punto ci ho assolutamente creduto, però bisogna ancora farsi un po' di corteccia per vincere queste partite. Senti, alla fine sembra più una questione di atteggiamento, quindi, che non tecnica. No, voglio dire, sono cose mischiate, nel senso che è chiaro che contro i loro cambi abbiamo fatto un po' di fatica in attacco, la palla si è fermata troppo, voglio dire, siamo mossi poco senza la palla e quindi abbiamo fatto fatica nei primi due quarti. Però alla fine abbiamo fatto 31 punti, il problema è che ne abbiamo subiti 41, perché dalle dieci palle perse sono arrivate di contro il piede, e di loro sono bravi perché poi hanno giocatori come Berti, che magari in campo cammina, però due volte ti butta la palla e fai quattro punti, oppure fai una lettura, hai capito? L'idea era di attaccare sia Berti che Poltroneri, ci siamo riusciti in parte, però, voglio dire, quando siamo rientrati c'è la contentenza, anche perché comunque non abbiamo mollato, era una partita che a un certo punto a metà tempo potevamo chiudere anche sotto di 15 o di 17. Siamo rimasti lì, però poi certe situazioni devono servire da insegnamento, perché certi errori non devi farli più, devi essere un pochino più attento sulle cose, se vogliamo essere, voglio dire, una squadra di un certo livello. Se invece ci accontentiamo di arrivare non ai decimi, va bene anche così.